Allora cari amici, se venite ad Arezzo, perché oggi ci troviamo ad Arezzo, in via De Redi, in Corso Italia, alla bruschetteria De Redi, qui dal mio amico Felice, che ringrazio, perché come sempre è stato molto gentile, noi ormai ci conosciamo da tanto, e naturalmente mi fa sempre assaggiare dei piatti buonissimi, tipici toscani, naturalmente perché qui, giusto Felice, Si cucina prettamente dei piatti proprio toscani, proprio di quelli all'antica, diciamo, via, le bruschette, le zuppe, giusto? Sì, alcune cose un po' più rivisitate, con diciamo delle piccole contaminazioni, che ci piace mettere anche degli ingredienti un po' che vengono da altre regioni, però peschiamo quello che è buono e lo usiamo Noi prendiamo il meglio dagli altri paesi e poi ricaviamo dei buonissimi piatti, giusto? Oggi di che cosa parliamo? Mostraci il piatto che ci hai preparato, così che i nostri amici, quando vengono qui, ti possono richiedermi, fai quel famoso piatto Questa è una bruschetta, è una bruschetta che noi la chiamiamo bruschetta Amalfi, perché gli ingredienti sono delle melanzane, sono della mozzarella di bufala campana, sono delle acciughine E il nostro olio, naturalmente con il nostro olio, quindi gli abbiamo dato un nome che ricorda un po' anche la campagna Allora, senti Felice, siccome questo è un piatto abbastanza veloce, insomma, per come ce l'hai spiegato, che è un piatto giustamente tipico del tuo ristorante Poi avete la pappa al pomodoro, sbaglio? Sì, poi facciamo ribollite, facciamo pappa al pomodoro, facciamo gli ignudi, che è il nostro piatto che abbiamo sempre Noi abbiamo due o tre piatti del giorno e tutti i giorni abbiamo qualcosa di questo genere Ascolta Felice, ci vuoi parlare anche molto brevemente del vino, perché oltre a questi bellissimi piatti tu hai anche molte varietà di vino, giusto? Questo vino è un Chianti, io ho scelto questa bottiglia rispetto ad altre bottiglie, tutta una serie di bottiglie che possiamo avere qui da noi Perché comunque mi piaceva molto, prima di tutto, il fatto che è una bottiglia, è un vino di Arezzo Questo è un Chianti, questo è un Chianti giovane, questo è un rio nero E quindi te lo abbineresti a queste bruschettine che c'è fatto Questo è un vino, proprio per le sue caratteristiche, un vino giovane, rotondo, leggermente fruttato Si abbina facilmente a, diciamo, delle bruschette di crostoni Io, quello che vi posso dire è, dovete venire qui ad Arezzo, visitate questa bellissima città Venite in Corso Italia, nella stradina Via dei Redi, troverete la bruschetteria dei Redi Ci sarà felice, può darsi che ci sia anch'io E naturalmente gli dica, mi fa quel piatto che abbiamo visto nel web E poi naturalmente ci sono tantissimi altri piatti tipici della cucina toscana con molti vini buonissimi Allora, grazie Felice, speriamo la prossima volta in altre tue spiegazioni Aspetta, mi piacere, senza dubbio Ok, allora ti ringrazio, sei gentilissimo Ci vediamo nel prossimo video, mi raccomando, seguitemi sempre con tante buone ricette e tanti gustosi consigli Ciao